Ciao tifosi del Napoli! È tempo di dare uno sguardo alle ultime notizie che riguardano una decisione cruciale per il nostro amato club, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis. Quindi rimani fino alla fine di questo video per avere tutti i dettagli. Il presidente De Laurentiis prepara una rivoluzione completa, dal consiglio sportivo alla rosa dei giocatori. Traore, arrivato a Napoli a gennaio come scommessa del club per recuperare dopo aver affrontato problemi di salute, è tra i possibili cambi. Sebbene mostri segnali di ripresa, il suo impatto non è stato ancora abbastanza significativo da giustificarne l'acquisizione definitiva. Il prezzo di riscatto fissato a 25 milioni di euro dal Bournemouth sembra essere oltre le aspettative del Napoli, che probabilmente cercherà di trattare per ridurre quella cifra. Secondo il giornalista Carlo Landoni, di Sport Mediaset, però, De Laurentiis ha preso la decisione definitiva sul mancato riscatto dell'Ivoriano, e tra ore non verrà riscattato dal club italiano. Il Napoli non pagherà i 25 milioni di riscatto al Bournemouth, e tra ore tornerà in Inghilterra, dove avrà la possibilità di perseguire nuove opportunità. Allora fan, sei d'accordo con questa decisione o no? Lascia il tuo commento qui sotto. Cogli l'occasione di iscriverti se sei nuovo al canale e attiva la campanella delle notifiche. Torneremo presto con altre novità.